Secondo fine settimana per l'emergenza coronavirus che interessa la città di Cerignola in provincia di Foggia. La città con circa 60.000 abitanti sta rispettando appieno le indicazioni del governo Conte emanate lo scorso 14 marzo. L'ordine o perlomeno la condizione di rimanere a casa viene ampiamente rispettato. Le scene che si possono vedere nelle immagini delle news tv ci dicono e danno l'idea di un clima surreale, strade vuote, qualche macchina che passa e qualche passante. In sostanza le ristrettezze del governo sono rispettate. Anche per quanto riguarda i supermercati la situazione rimane sempre nell'ottica di restare a un metro di distanza l'uno dall'altra. Nella serata di venerdì 20 marzo è stato effettuato il percorso di sanificazione della città dalle 21 alle 24 così come disposto dalla Commissione Prefettizia. Dopo la lettera con risposta giunta alla nostra redazione dal commissario straordinario Postiglione. Mimmo Siena, Speciale News Web 24 A тонcare a opinions 대해! A